In Friuli Venezia Giulia sono state colte da malore ben 15 persone in chiesa durante la celebrazione della messa per la Domenica delle Palme. Il caso ha voluto che tutti coloro che si sono sentiti male si trovassero in chiesa. Sono stati soccorsi prontamente dai sanitari. Gran parte dei casi di malore è avvenuta nella provincia di Trieste e Udine. Un paio di malori si sono verificati a Pordenone. Tra le persone che si sono sentite male c'è una minore, uomini e donne di tutte le età. La minore si è accasciata a terra durante la messa. Secondo quanto riporta Udine Todai, sono stati soccorsi tempestivamente dal 118. Fortunatamente, i malori non sono risultati gravi, sono stati tutti gestiti in codice verde e poi dimessi. Nonostante la paura, tutti si sono ripresi poco dopo. Non è chiaro il motivo di questi malori. La causa potrebbe essere stata la ressa, il numero eccessivo di persone presenti, in quel momento nel luogo sacro. Probabilmente, hanno avuto un mancamento in quanto costretti, in mezzo alla folla. Questi 15 casi non sono stati gli unici in Italia. Sempre la Domenica delle Palme, è stato registrato un caso di malore in chiesa, anche a Falconara. Un uomo di 83 anni è stato soccorso dall'automedica del comune e dalla croce gialla di Ancona. In provincia di Lecco, a Cassatenovo, un anziano ha accusato un malore vicino al sagrato parrocchiale di San Giorgio. Che ne pensate di questi malori in chiesa? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Grazie. Grazie a tutti.